Ufficiale, il Milan è escluso dall'Europa League 2019-2020 Vi dico la verità, non me l'aspettavo, non pensavo che saremmo arrivati a questo punto Non pensavo che la UEFA avrebbe squalificato il Milan E di fatto non è così, effettivamente, se andiamo a leggere il comunicato Andiamo a leggerlo Il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ha reso noto l'accordo tra Milan e UEFA Per quanto riguarda i procedimenti per la violazione del regolamento sul fair play finanziario Da parte dei rossoneri Quindi si parla in maniera chiara di un accordo tra le parti Ma qual è il succo di questo accordo? Allora, in parole povere La UEFA annulla la sanzione che era già stata combinata al Milan a dicembre Quella del break-even da raggiungere entro il 2021 Pena l'esclusione dalle coppe europee nel 2023 o nel 2022 Era una cosa così E soprattutto la UEFA rinuncia a procedere contro il Milan Per quanto riguarda anche il triennio 16, 17 e 18 Quindi, in parole povere, il Milan rinuncia a fare ricorso contro la UEFA E la UEFA rinuncia a procedere contro il Milan Il Milan si toglie un anno di Europa League Sostanzialmente per mettersi a posto due trienni A questo punto mi viene abbastanza logico pensare che in primavera Magari anche prima potremmo avere anche un settlement agreement A questo punto Con un break-even da raggiungere magari entro il 2022, 2023 Non so entro quale anno Ma il riassunto è fondamentalmente questo Il Milan ha rinunciato all'Europa League Semplicemente per togliersi dalle palle due trienni Tremendamente sanguinosi Io, ragazzi, dico la verità Allora, da un lato sono contento Perché so che il Milan comunque l'Europa League Non l'avrebbe giocata bene Lo so già Perché nessuna squadra italiana gioca mai bene questa Coppa Non si sa per quale motivo Il Milan deve concentrarsi sul campionato Deve pensare ad arrivare quarto Quindi l'Europa League sarebbe stato sicuramente più un ostacolo che altro Perché parliamoci chiaro Se devi giocare l'Europa League in maniera seria Per vincerla A me sta anche bene Ma se devi giocare l'Europa League Per fare figure di merda contro il Dutelange Senti a me Stai a casa Pensa ad arrivare quarto E non rompere il cazzo Quindi da un lato sono contento Dall'altro, ragazzi, è innegabile che sia una figura di merda Senza precedenti Perché va bene che è un accordo Va bene tutto quello che vogliamo Va bene che ci mettiamo in una posizione sicuramente migliore Con la UEFA Però ragazzi È una figura di merda E c'è poco da fare Una figura di merda che rimarrà Una figura di merda che dobbiamo calarci Per forza Quindi Ed è una figura di merda Figlia sia dell'anno cinese Che delle ultime Gestioni Galliani Berlusconi Quindi io A tutte queste fazioni Che si fanno la guerra Tra galli Anofili Cine Cinese Cinesefili Come cazzo si chiama Ragazzi È una guerra tra mongoloidi Perché tanto Alla fine C'è il Milan L'avete rovinato voi Entrambe le parti L'ha rovinato Mirabelli Come l'ha rovinato Galliani Come l'ha rovinato Berlusconi Come l'hanno rovinato Tutta sta gentaglia Che è passata dal Milan In questi anni Io Se questa figura di merda colossale Ci mette nelle condizioni Effettivamente Di poter avere Una vita Normale Cosa che chiediamo A gran voce Va bene Mi faccio pure sta figura di merda Però Ragazzi Cioè Che palle Che palle Che palle Sì Ho tagliato la barba Comunque Per celebrare L'esclusione Dall'Europa League Via l'Europa League Via la barba Via tutto Ci stanno togliendo tutto Morgato Cosa che fai